Grazie a Raffaele Barberio per l'introduzione e grazie a Antonio Palmieri per aver organizzato questo evento, grazie ai parlamentari che hanno messo a disposizione un po' del loro tempo che è sempre estremamente scarso, grazie a voi che siete tutti qua. Le tre iniziative di cui parliamo hanno questo fil rouge che è il ruolo sociale dell'informatica, ovvero la consapevolezza che l'informatica è una disciplina scientifica, oltre che quella meraviglia tecnologica che ci permette di fare un sacco di cose e quell'incubo che ogni tanto ci tormenta, l'informatica ha un impatto sociale estremamente enorme e quindi bisogna occuparsene anche da scienziati. Io sono il presidente di questa associazione che rappresenta praticamente tutta Europa, diciamo a macchia di leopardo, alcuni paesi sono più rappresentati, altri sono meno rappresentati e l'idea è provare a fare in Europa un'azione di coordinamento che sia condivisa da tutti, che superi le barriere linguistiche, diciamo le 20, 27, 28, 30 lingue che abbiamo in Europa, le differenti tradizioni, perché poi certi temi sono temi comunque trasversali. Quindi il tema comune è quello dell'impatto sociale, io ci tengo a ribadire una cosa che a me sembra ovvia, ma più ne parlo più non è ovvia alle persone, ovvero che noi siamo in un mondo digitale e c'è una scienza che governa questo mondo digitale che è l'informatica e noi non siamo così consapevoli del fatto che questo mondo digitale è un mondo altrettanto reale del mondo fisico e non abbiamo ancora fatto, diciamo, il parallelo tra la formazione dei cittadini a capire il mondo fisico e la formazione dei cittadini a capire il mondo digitale. Quindi noi insegniamo per 13 anni nella scuola, della prima elementare, la matematica, le scienze e perché? Perché, diciamo, ovviamente il bambino non può pensare che le mele cascano dagli alberi per grazia divina o, diciamo, il bambino nasca sotto al cavolo. Ci sono dei processi scientifici, poi ovviamente ci sono la religione, ci sono le arti, insomma, a complementare l'educazione, però c'è una scienza che ci aiuta a capire qualche cosa nel mondo che ci sta attorno. Adesso il mondo sta diventando, sarà sempre di più, in futuro digitale dobbiamo capire qualche cosa di questa scienza. E questa scienza, appunto, ha un impatto sociale e siccome noi, prima che scienziati siamo uomini, abbiamo il dovere, come scienziati, come studiosi, di porsi il problema di questo impatto che, insomma, ormai è evidente sotto gli occhi di tutti, sono già due, tre, quattro anni che, diciamo, o periodicamente esplode, diciamo, qualche cosa che si pensava non fosse possibile. I nostri dati, tutto quello che abbiamo di più privato, di più, diciamo, di più segreto viene condiviso, viene venduto sulla rete, insomma, è, se ci pensate, un pochino preoccupante. Io ripeto sempre che dobbiamo studiare la scienza e la tecnologia per capire come funziona, no? Però nelle arti e nella letteratura spesso c'è anticipazione di quello che accadrà e quanto sta accadendo nel mondo di adesso, nel mondo digitale, se avete letto un po' di fantascienza, un po' di grande letteratura, diciamo, lo trovate già anticipato. Questo per richiamare, diciamo, l'invito che ha fatto Barberio a saldare i due aspetti della formazione, aspetto scientifico e aspetto umanistico. Allora, noi come associazione europea abbiamo ogni anno un convegno e quest'anno per la prima volta sarà a Roma il convegno, a partire da lunedì prossimo, e il focus del convegno è esattamente la responsabilità sociale dell'informatica. Che cosa stiamo facendo? Come possiamo noi, da studiosi, quindi da persone che non sono né politici, né governanti, che però conoscono la scienza, che cosa possiamo fare noi per non abdicare al nostro ruolo di persone che danno, diciamo, in mano degli strumenti abbastanza potenti? Un pochino, diciamo, quelli più anziani tra noi, io mi ci metto fra questi, ricorderanno che negli anni 50 il tema del nucleare era simile a questo e, diciamo, i fisici si interrogavano su cosa si dovesse fare per evitare che la società finisse distrutta nell'olocausto nucleare. Ora, l'olocausto digitale, se così possiamo chiamarlo, non avverrebbe con la stessa istantaneità e subitanità di un olocausto nucleare, ma sta avvenendo piano piano, diciamo, sotto i nostri occhi ed è importante che noi prendiamo coscienza di questo. Quindi questa è la prima iniziativa, insomma, è un'iniziativa per studiosi e non dico di più perché, insomma, entraremo proprio nel tecnico. Possiamo dire, professore, dove si tiene il convegno? Si tiene a Roma, diciamo, in un hotel, perché, diciamo... È a porte chiuse o è possibile? No, è a porte chiuse, diciamo, è a porte chiuse perché è per studiosi. Però, insomma, qualche giornalista vuole venire a intervistare qualcuno degli studiosi che abbiamo là. Abbiamo, insomma, persone di calibro molto elevato. È benvenuto, mi contatti. Insomma, non è, come dire, non è segreto. È chiuso ma, diciamo, permeabile, ecco, diciamo, per usare una metafora della biologia. È una membrana permeabile. Seconda iniziativa è un'iniziativa che stiamo supportando e che va sotto il nome di Umanesimo Digitale, che è un termine, insomma, che comunque già c'era, ma sul quale noi adesso stiamo spingendo molto. Lì vedete, diciamo, elencati i due lati, no? Progresso o incubo. Stavo per etichettarli quando ho preparato la slide Inferno o Paradiso. Poi, diciamo, ho pensato che andavamo troppo sul religioso e quindi l'ho messa così. Però è chiaro che noi abbiamo dannato un'innovazione digitale che promette di essere davvero il progresso alla nostra portata e dall'altro abbiamo, diciamo, degli incubi in base ai quali, mentre camminiamo per una qualunque città tranquillamente, ci tracciano, vedono dove stiamo, che compriamo, cosa facciamo, con chi stiamo e così via. E questi sono problemi gravi che probabilmente nascono dal fatto che abbiamo dimenticato che il nostro fuoco dovrebbe essere l'uomo. Il progresso, se non ha l'uomo al centro, non è progresso. È un'altra cosa, con nomi molto più terribili. Quindi cosa vuol dire essere umani nell'era digitale? Non si può far finta che la tecnologia sia neutrale perché in astratto forse può essere neutrale, ma in concreto la tecnologia è al servizio di una certa visione del mondo. Se ho una visione del mondo democratica userò la tecnologia per dare democrazia. Se ho una visione del mondo, diciamo, oligarchica o tirannica la userò esattamente nello stesso modo. Al volo ricordo che, diciamo, un evento di cui tutti serbiamo una terribile memoria, cioè quello del genocidio degli ebrei nella Germania nazista, fu organizzato grazie anche ai laboratori elettronici dell'allora appena nata IBM che mise la sua tecnologia al servizio di una visione del mondo nel quale, diciamo, certi cittadini erano diversi dagli altri. Quindi la tecnologia in sé per sé, diciamo, in astratto, potrebbe essere neutrale ma può essere usata in un senso o nell'altro. L'umanesimo digitale vuol dire rimetterla al centro. Abbiamo preparato un'iniziativa, diciamo, questa che è stata avviata dall'Università di Vienna, a cui noi come Informatic Europe abbiamo aderito e stiamo supportando. E c'è un manifesto che elenca tutta una serie di principi abbastanza importanti, no? Che bisogna promuovere la democrazia, promuovere l'inclusione, fare una società più giusta, più democratica. E per far questo bisogna essere aperti, bisogna essere interdisciplinari. Non posso io da informatico decidere cosa è bene, perché mi serve lo psicologo, il pedagogo, lo storico, il sociologo. E bisogna coinvolgere tutti in questo dibattito, perché la società è di tutti, la democrazia, diciamo, a che piaccia o no è di tutti. Vuol dire, diciamo, tutti, no? Ricordate che fino a 50-70 anni fa le donne non votavano, no? E abbiamo fatto una battaglia, forse in Italia un po' di più, abbiamo fatto una battaglia durissima, perché tutti devono votare, tutti. Nessuno escluso. Ovviamente vanno istruiti, vanno educati, è fondamentale. Tutti gli uomini di potere sanno che una massa che ignora, una massa ignorante può essere governata, istruire la massa è stata una delle grandi conquiste delle democrazie, diciamo, del secolo scorso, perché istruendo le masse si ha una società migliore. Magari in cui è faticoso governare, perché la democrazia è molto faticosa, ma certamente sul lungo periodo e per la maggior parte delle persone è la soluzione migliore. Quindi, manifesto di Vienna è aperto alla firma sia degli individui che delle istituzioni, c'è una versione anche in italiano, l'abbiamo presentato in questa occasione, lo ripresenteremo e via facendo. Terzo... Prima cosa, il convegno che si terrà a Roma da lunedì, secondo elemento, l'umanesimo digitale, sancito dall'iniziativa di Vienna, e c'è una terza cosa che siamo qui oggi, che presentiamo qui oggi, e che questa volta però invita alla mobilitazione in un certo senso. Sì, in modo particolare invita alla mobilitazione gli onorevoli che sono seduti a questo tavolo, che si occupano di cultura, perché è appunto il tema dell'informatico come disciplina scientifica. Io, diciamo, nei miei innumerevoli tentativi di spiegare la visione dell'informatico come disciplina scientifica, ho parlato di una rivoluzione informatica come terza rivoluzione dei rapporti di potere, cioè dopo la rivoluzione della stampa a caratteri mobili, che rompe il potere dell'autorità, del maestro, perché fino a prima della stampa a caratteri mobili, per sentire l'autorità bisognava essere nel luogo in cui parlava il maestro. Con la stampa a caratteri mobili si stampa nei libri, la conoscenza inizia a diffondersi, e questo processo è un processo che cambia per sempre la società, perché diffondendo la cultura, diffondendo la scienza, diffondendo la tecnologia, si mette in modo un processo che dopo circa tre secoli, di 800 milioni di libri, porta alla rivoluzione industriale. E cominciamo a fare le macchine. Le macchine industriali liberano l'uomo dalla schiavitù della natura. Io non sono più limitato da una montagna, dal mare, dall'aria. Costruisco un aereo, un ponte, una nave, e raggiungo, e rompo il potere della natura. Ecco, ma cosa chiediamo con la dichiarazione di Roma, professore? Con la dichiarazione di Roma noi chiediamo che venga riconosciuto questa importanza della rivoluzione informatica. Cioè, chiediamo che affinché si capisca che queste nuove macchine, che non sono più industriali, che sono macchine cognitive, sono macchine digitali, ma se le chiamiamo digitali e riduttive, se le chiamiamo cognitive, è più importante, perché vuol dire che sono la meccanizzazione di cose che prima faceva un essere umano, ma senza la flessibilità e l'adattabilità di un essere umano. E questo, appunto, come esempio del passato, della storia ci dimostrano, può essere terribile. Quindi, se queste macchine cognitive non insegniamo ai bambini, ai ragazzi, fin da piccoli, quali sono i principi scientifici, cosa possono fare, sarà terribile per il nostro futuro. Quindi, la dichiarazione di Roma è di nuovo un appello affinché si inserisca l'informatica come formazione scientifica nel programma di scuola a tutti i livelli, affinché si formino i docenti per insegnare, affinché si faccia ricerca sui metodi di insegnamento, affinché, diciamo, anche a livello europeo, quelle che sono riconosciute come le competenze chiave per la formazione permanente, facciano riferimento al mondo digitale, perché il mondo digitale è il mondo in cui siamo adesso. E c'è un modo per dire presente a questo appello della dichiarazione di Roma? Per la dichiarazione di Roma l'appello è aperto soltanto alla firma dell'istituzione, non alla firma dei singoli, perché vogliamo portare a livello europeo la pressione delle istituzioni. Quindi qualunque sia l'istituzione in cui siete, piccola, grande, diciamo, di livello italiano o internazionale, a quell'indirizzo là potete trovare, prima di tutto, la versione in italiano della dichiarazione di Roma, la descrizione di quello che stiamo facendo in questo ambito, e la possibilità di aderire all'appello, perché più siamo dietro questo appello, lo stiamo facendo circolare in tutta Europa, più si capirà che questo è un discorso fondamentale. Questo, diciamo, brevissimamente chiudo. Su questo tema, altri paesi avanzati si sono mossi da tempo. L'Inghilterra ha l'informatico obbligatorio in tutte le scuole dal 2014. Gli Stati Uniti l'hanno inserita nel 2017 a livello federale e lo stanno facendo in tutti gli stati. In Cina e in Giappone è la stessa cosa, perché tutte le grandi potenze sanno che, oltre che essere una disciplina scientifica per capire la società, è una chiave di potere. Diciamo, noi magari come l'Italia non possiamo ambire a quel livello di controllo sul mondo, ma sicuramente vogliamo difendere la nostra specificità, la nostra particolarità. Sicuramente vogliamo una società più democratica, più giusta, in cui il digitale ha un ruolo fondamentale, in cui la formazione dell'informatica è altrettanto fondamentale. Lei porta a casa la presenza di tre parlamentari, due governativi, di area governativa, uno dell'opposizione, ma tutti e tre sensibili e pronti a fare la loro parte. Mi pare che ci siano gli ingredienti, non solo per portare un risultato contingente di giornata, che è sempre utile, per carità, ma di guardare anche una prospettiva, o sbaglio? Sì, certamente sono molto contento che ci sia sia la maggioranza che l'opposizione, perché come ripeto sempre a tutti, diciamo, in questo mio processo di evangelizzazione, questo discorso dell'inserimento dell'informatica nella scuola e comunque dell'educazione di tutti i cittadini a quello che è l'informatica come disciplina scientifica è un discorso di lungo periodo, un discorso, come è stato detto, complicato, complesso, che richiederà uno sforzo economico non secondario e quindi è una cosa che non si può fare semplicemente perché c'è una maggioranza che lo vuole, perché poi, diciamo, dopo quattro anni le maggioranze cambiano e il Paese invece ha bisogno di interventi strategici che vadano oltre la dualità, insomma, la necessaria dialettica tra maggioranza e opposizione. Nel passato ogni tanto questa cosa è accaduta proprio sull'informatica nel Parlamento, ci sono state delle miracolose convergenze da maggioranza e opposizione su questo tema, io spero che diventi proprio un tema importante per il futuro, perché l'Italia ha bisogno di questo per ricominciare a crescere e dire la sua nel mondo digitale. Noi, diciamo, la dichiarazione di Roma è molto sintetica e, diciamo, è stata concordata a livello europeo. Noi in Italia abbiamo proposto al Ministero un programma per l'insegnamento dell'informatica nella scuola che, oltre ai temi tecnici puri, ha i temi della consapevolezza digitale e quindi dell'impatto. Il progetto Programma Il Futuro, grazie anche a un centro di ricerche, diciamo, temi che si occupa proprio di aspetti di psicologia sociale, forma i bambini non soltanto ai concetti di base, l'algoritmo, l'automa, la rete, concetti scientifici e tecnologici di base, ma anche all'impatto. Cos'è la privacy? Cos'è il dato? Perché il dato ha altrettanta proprietà del bene fisico? Perché, diciamo, nel mondo virtuale ci si muove, è importante muoversi con la stessa tensione con cui ci si muove nel mondo reale perché il virtuale è effettivamente reale. A lei le due parole di commiato che sono in genere richieste quando si chiude una manifestazione? Due semplici parole. Sono ovviamente contento del risultato e guardo con fiducia al futuro, ma io sono sempre stato un ottimista, diciamo, da quando... da sempre, in particolare da quando ho iniziato questo progetto, altrimenti uno non può superare le difficoltà perché, diciamo, il mondo è estremamente complesso e quando si vuole realizzare qualche cosa bisogna essere ottimisti. Quindi sono estremamente contento di questo, ovviamente continuerò a tempestare l'amico Antonio e, diciamo, gli spero nuovi amici Lattanzio e Piccoli Nardelli perché davvero ritengo che questo sia un tema importante. Quindi grazie di nuovo a loro, grazie a voi che siete venuti qua. Grazie a tutti.